Migliorare la salute respiratoria con miele all'aglio. Per ottenere buoni risultati, è fondamentale assicurarsi che gli ingredienti siano di prima qualità, altrimenti saranno poco efficaci. La salute respiratoria può essere compromessa dagli effetti nocivi delle tossine che si trovano nell'ambiente, dalla cattiva alimentazione e da altri fattori esterni che causano irritazione e danni ai tessuti. Talvolta, dunque, risulta necessario migliorare la salute respiratoria. Anche se ogni persona ne soffre in modo diverso a causa dell'attività del proprio sistema immunitario, spesso si verificano sintomi e disturbi che peggiorano la qualità della vita. L'aspetto più preoccupante è che virus e batteri riescono a causare infezioni, e in casi gravi, generano reazioni infiammatorie che rendono difficoltosa sia la respirazione che il passaggio dell'ossigeno e dei nutrienti nei polmoni. Per questo motivo, è importante migliorare le proprie abitudini di vita, seguendo un'alimentazione sana che soddisfi i requisiti per proteggere il sistema respiratorio. È possibile anche prendere in considerazione alcuni integratori a base di ingredienti naturali, che rafforzano le difese e puliscono le vie respiratorie. A questo proposito vogliamo consigliarvi il miele all'aglio, noto per il suo potere antibiotico, espettorante e antinfiammatorio. Si tratta di un rimedio di facile preparazione e poco costoso che vi aiuterà a curare vari problemi polmonari e respiratori. Ideale per migliorare la salute respiratoria. Miele all'aglio per migliorare la salute respiratoria. Il miele all'aglio è un antico rimedio tradizionale usato come alleato per combattere i principali problemi respiratori. Come dice il nome, si prepara con miele e spicchi d'aglio, dando vita a uno sciroppo naturale con proprietà antibiotiche e disintossicanti. I benefici del miele Il miele biologico è un prodotto noto per i suoi molteplici usi medicinali, gastronomici e cosmetici. Nel corso dei secoli è stato usato come base per la preparazione di rimedi naturali, soprattutto per combattere infezioni, problemi respiratori e difficoltà digestive. È un'importante fonte di enzimi e antiossidanti, che assieme alle vitamine e ai sali minerali, aiutano a mantenere le difese forti e attive. Contiene zuccheri naturali che aumentano il livello di energia del corpo, prevenendo la fatica e velocizzando il recupero dal senso di malessere causato dalle malattie. I suoi composti antivirali e antibiotici aiutano a eliminare i microorganismi che provocano le infezioni, e oltretutto creano una barriera di protezione contro attacchi futuri. È un espettorante e antinfiammatorio naturale che modera la produzione eccessiva di catarro, così come il mal di gola e la congestione. I benefici dell'aglio Per il suo contenuto di nutrienti essenziali L'aglio è un complemento ideale per migliorare molti aspetti della salute. Anche se in cucina trova centinaia di applicazioni, anche il suo potere medicinale viene valorizzato da migliaia di anni. Contiene un principio attivo conosciuto come allicina che funge da antinfiammatorio e antibiotico, facilitando il trattamento delle infezioni respiratorie. Arresta lo sviluppo nell'organismo di una grande varietà di virus e batteri, impidendo che causino complicazioni. È un classico rimedio contro il mal di gola, gli starnuti e altri sintomi respiratori, visto che ingerirlo favorisce la pulizia del sistema respiratorio. Contiene sostanze anticancerogene, che potrebbero dare benefici a chi è a rischio di tumore al polmone. Come preparare in casa il miele all'aglio Per godere dei benefici di questo salutare miele all'aglio con cui migliorare la salute respiratorie, è molto importante acquistare miele biologico. Questo perché il miele raffinato contiene zucchero e non ha gli stessi valori nutrizionali. Ingredienti 3 spicchi d'aglio 1 tazza di miele 335 g Utensili 1 barattolo di vetro Con il coperchio 1 cucchiaio di legno Preparazione Triturate gli spicchi d'aglio fino a ottenere una pasta densa. Versatela nel barattolo di vetro e poi copritela col miele. Mescolate gli ingredienti con il cucchiaio di legno per distribuire bene l'aglio. Chiudete il barattolo e mettetelo in un luogo fresco e poco illuminato per 7 giorni. Come consumarlo una volta trascorso il tempo consigliato? Mangiate un cucchiaio di miele all'aglio tutti i giorni e a digiuno. In caso di problemi respiratori, mangiate dai 3 ai 5 cucchiai al giorno. Se vi piace, potete mescolarlo con acqua tiepida per facilitarne l'ingestione. Ricordate che anche se non si tratta di un rimedio miracoloso, questo prodotto naturale vi può aiutare a mantenere le difese forti e migliorare la salute respiratoria. Seguite le istruzioni e tenetelo sempre a portata di mano per godere di tutti i suoi benefici.